Il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, Ingegner Carlo Federico, questa mattina ha raggiunto il distaccamento di Sala Consilina, accolto dal Capo di Staccamento Eugenio Siena per incontrare i suoi uomini in servizio nel Vallo di Diano. A salutare l'Ingegner Federico ha anche il responsabile del distaccamento di Policastro, Alessandro Morello. Giunto a Salerno lo scorso dicembre, in sostituzione dell'architetto Rosa De Liseo, il nuovo comandante è riuscito solo in queste settimane ad iniziare il suo giro presso i diversi distaccamenti della provincia per incontrare i caschi rossi e con loro confrontarsi sul lavoro da svolgere e sulle emergenze da affrontare. Un confronto che vede alla base anche la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle comunità locali che, come sottolineato dal comandante Federico, possono con comportamenti responsabili ridurre le criticità e gli episodi emergenziali che possono arrecare pericolo. Da Salernitano conosce bene la realtà provinciale e si mostra pronto e con le idee chiare. Il comando di Salerno è un comando complicatissimo dal punto di vista interventissimo perché praticamente nella provincia di Salerno c'è di tutto. è una provincia molto estesa, ha una realtà industriale nella zona nord importantissima, è la seconda città della Campania e quindi praticamente dal punto di vista professionale è soddisfacente. Noi siamo presenti con 11 sedi, con il dodicesimo della centrale, su tutta la vasta provincia di Salerno. Adesso dopo Sala Consiglina andrò a visitare il distaccamento di Roscigno, che è uno dei cinque distaccamenti boschivi che stiamo realizzando. Questo abbiamo già realizzato, un altro è previsto nel Parco Nazionale del Vesuglio, e nelle altre zone d'Italia. Noi avevamo fino a pochi anni fa addirittura un progetto che abbiamo portato a terra, che si chiama Progetto Scuola Sicura. Lo facciamo ancora con il nostro personale in quescenza, in pensione. Andiamo nelle scuole, diamo i rudimenti di quella che è la sicurezza a casa anche praticamente, anche perché l'attività più difficile da tenere sotto controllo è proprio la casa, sono le nostre case in cui ci sarà di tutto. È un'attività che stiamo svolgendo ancora con l'aiuto dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congeto. In vista dell'estate, lo sappiamo, è stata stipulata dalla Direzione regionale Campania, in convenzione con la Regione Campania, una campagna boschiva. Quindi inizierà un lavoro suppletivo che sarà abbastanza pesante. Certo, negli ultimi anni è diventato quasi ordinario, se ci faremo ad esempio al 2017, che fu l'anno nero per gli incendi boschivi. Quindi potenzieremo il distaccamento di sala Consilini con ulteriori partenze e faremo il possibile per fronteggiarle.